benvenuti a vivi giappone al nuovo finto natale 2017 perché oggi in verità è il 24 novembre ci troviamo al palace heian qui a sendai un posto super ultra chic sempre invitati dall'associazione italia del giappone di sendai vediamo che succede guardate che bello dietro di me vediamo cosa mangeremo e cosa faremo buongias buonasera buon natale oggi che evento è festa di natalizia di nostra associazione italia giapponese di sendai e oggi canterete tantissimo canzone italiana anche giapponese anche quest'anno diventiamoci o natale buon 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 natale auguri buon natale buon natale buon natale perché non sanno che bisogna abbattere i bicchieri quando non sanno che bisogna abbia di bere e vediamo la cucina abbiamo dei buon natale buon natale buon natale buon natale buon natale buono buon natale 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 bu Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Speriamo che possiate divertirvi con le vostre famiglie, mangiare e avere il calore familiare! Anche quello del riscaldamento che qui non mancherebbe! Buon Natale ragazzi! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Siamo nel futuro qui! Io in verità l'ho fatto anche una settimana fa! Ve lo dico, non è più veloce questo! Ho fatto una settimana fa ma non potuto fare i video ragazzi! Perché sei più veloce e documentale! Secondo Natale ne manca ancora il terzo che quello vero! Quello vero forse! La frappere ragazzi! La frappere! Che non è per me! Quello vero! Che è il mio figlio! Il mio figlio è per me! E' il mio figlio è per me! Che è il mio figlio! Questo non è il giovane questa parte! Il resto è giapponese! Si ti dica al smarattino nippolo! Il mio figlio è per me! Il mio figlio è per me! Grazie a tutti. Grazie a tutti.